Gli ebrei furono vittime della Shoah ma non furono passivi di fronte alla persecuzione come comunemente si crede. La storia è piena di esempi di uomini e donne coraggiosi che durante l'annientamento cercarono di resistere attuando strategie di sopravvivenza, combattendo con le armi o mettendo in atto scelte che potessero aiutare a rimanere in vita. Anche nei centri di sterminio che erano concepiti solamente per un'unica funzione, uccidere in massa, anche in quei luoghi ci furono episodi di eroiche forme di resistenza. Oggi vorrei raccontare la storia della rivolta di Zobibor e la storia di un uomo molto coraggioso, l'uomo che prese le redini di quella rivolta, il tenente dell'armata rossa Aleksandr Peczerski, un uomo che poi verrà dimenticato dal suo paese e dalla storia stessa della Shoah e della resistenza ebraica. Ma partiamo da Zobibor. Zobibor, situato nella Polonia orientale, era uno dei tre centri di sterminio per uccidere in massa con il gas gli ebrei che la Germania nazista istituì nella Polonia occupata a partire dalla primavera 1942. Questi tre centri funzionarono complessivamente per circa 18 mesi, cioè fino all'autunno 1943, e insieme contribuirono ad assassinare più di un milione e settecentomila ebrei, principalmente polacchi, ma deportati anche dai Paesi Bassi, dalla Francia, dal Reich e dalla Slovacchia. Anche alcune migliaia di sinti di Rom furono assassinati con il gas. Erano dotati di camere a gas fisse, azionate da monossido di carbonio, che veniva immesso nelle camere a gas attraverso il collegamento con i tubi di scarico di motore di veicoli militari. I centri di sterminio, appunto come Zobibor, non sono concepiti come i campi di concentramento. Non è previsto l'internamento dei prigionieri. Tutti i deportati, quindi tutti gli ebrei che vi sono destinati, appena scendono dal treno, sono costretti a spogliarsi, a entrare nelle camere a gas, vengono assassinati e poi i loro corpi vengono seppelliti in gigantesche fosse comuni, successivamente verranno invece bruciati. Quindi non c'è, a differenza di Auschwitz, una selezione all'arrivo tra un gruppo maggioritario che deve essere ucciso subito e una piccola minoranza che viene risparmiata per lavorare nelle industrie e nelle fabbriche. Tutti devono morire. C'è però un'eccezione, una piccolissima eccezione. Anche nei centri di sterminio, che non hanno alloggiamenti per i prigionieri, come ho appena detto, ci sono dei lavori che devono essere aspettati dai prigionieri, quindi non dall'SS. Lavori di manutenzione del campo, lavori che hanno a che fare con lo smestamento dei vestiti e dei beni delle vittime e soprattutto devono gestire i corpi, quindi i cadaveri delle vittime. Questi compiti sono affidati a un piccolo gruppo di prigionieri, circa 500-600 persone, sono uomini e donne adulti, che vengono quindi risparmiati dalla morte immediata, il tempo necessario per occuparsi di questi lavori, poi vengono anche loro uccisi nelle camere gas e vengono sostituiti con altri prigionieri scelti tra gli ebrei appena arrivati, affinché nessuno possa testimoniare di quanto è stato commesso in quel luogo. Ebbene, nell'estate 1943, abbiamo detto che questi trecentri rimangono in funzione fino all'autunno 1943, nell'estate 1943 la Shoah ha già toccato il suo apice, cioè già un gran numero di vittime è stato assassinato e a Zobibor iniziano ad arrivare sempre meno con voi. Questo significa, per i pochi ebrei che sono superstiti, che quindi sono tra quei prigionieri che devono lavorare, significa che presto il campo verrà liquidato. Non è una buona notizia per quelli che sono in vita, capiscono che anche loro presto saranno uccisi. E allora a Zobibor si crea un piccolissimo gruppo di resistenza clandestina, piccolissimo, sono 18 persone, che si raggruppano attorno a Leon Feldhandler, che è il figlio di un rabbino e che è fermamente intenzionato a uscire di lì. C'è però un problema, nessuno di loro sa combattere, nessuno di loro è abituato ad esercitare la forza fisica, quindi ad esercitare attività sportiva, non ha cioè quella forza fisica necessaria per poter pensare intanto di uscire di lì e poi di scappare. Intorno a Zobibor ci sono foresti, ci sono boschi. Inoltre c'è stato un tentativo di fuggire da Zobibor poco tempo prima, sempre nell'estate 1943, quando alcuni prigionieri hanno tentato di scavare un tunnel sotterraneo, ma sono stati scoperti e sono stati immediatamente giustiziati. L'occasione giusta per una fuga da quell'inferno si presenta nel settembre 1943, quindi poche settimane dopo, quando liquidato il centro di esterminio di Belgec, arrivano 2000 ebrei, tra cui ci sono 80 soldati sovietici. Tra questi soldati c'è il nostro Aleksandr Perczewski. Aleksandr, detto Sascha, quindi lo chiameremo Sascha come lui voleva essere chiamato, era un ragazzo molto istruito, era un adulto, aveva più di 30 anni, era stato catturato dall'esercito tedesco nell'autunno 1941, era già stato imprigionato in diversi campi di prigionia, da cui aveva sempre tentato di scappare. Finché era stato spostato a Minsk, uno dei campi più duri, a Minsk era stato scoperto il suo ebraismo, quindi l'appartenenza al gruppo degli ebrei, così come erano definiti dal punto di vista della categoria dei prigionieri, e quindi viene spostato a Zobibor. Immediatamente appena arriva, anche Aleksandr è destinato a quella morte immediata, ma lui e altri 79 giovani uomini, tutti prigionieri di guerra sovietici, mentono all'ufficiale dell'SS che quel giorno chiede se ci sono tra loro dei carpentieri e dei falegnami. Quindi mentono tutti dicendo di saper fare quel lavoro e quindi hanno la possibilità di rimanere in vita almeno temporaneamente. La presenza di Aleksandr non passa inosservata, viene immediatamente contattato da quel piccolissimo gruppo di resistenza clandestina che gli chiede aiuto per organizzare la rivolta e per organizzare la fuga da Zobibor. Aleksandr è un veterano dei campi di concentramento e si rende conto immediatamente che è capitato in un luogo da cui non è possibile uscire vivi e quindi impiegherà solo tre settimane per progettare quel piano. Il piano è relativamente semplice anche se assurdo da realizzare, ovvero si tratta di cercare di isolare le guardie dell'SS una ad una e anche le guardie ucraine che sorvegliano Zobibor per ucciderle individualmente, impossessarsi delle loro armi e poi impossessarsi del deposito di armi di Zobibor in modo da armare tutti i fuggiaschi e quindi tentare la fuga collettiva. Occorre sapere che un centro di sterminio proprio perché non era pensato come un luogo di prigionia, non era pensato come un luogo dove migliaia di prigionieri dovessero abitare, aveva pochissime guardie. Zobibor aveva più o meno una ventina di guardie delle SS e circa un centinaio di ucraini. Gli ucraini erano soldati sovietici ucraini, infatti prigionieri dalla Wehrmacht, che in cambio di aver salva la vita avevano accettato di collaborare. In che modo avevano collaborato? Erano stati spostati in un campo di addestramento molto duro a Trabniki, infatti erano chiamati gli Trabniki, dove avevano imparato ad esercitare la crudeltà a diventare sorveglianti degli ebrei. Infatti i sopravvissuti ricordano sempre gli ucraini come persone particolarmente dure, particolarmente crudeli. Ebbene il piano scatta il 14 ottobre 1943 alle ore 16. Perché il 14 ottobre? Perché quel giorno il comandante di Zobibor e due SS non sono al campo, quindi sono fuori, quindi ci sono meno SS. Perché è alle 16? Perché le 16 è circa un'ora prima della fine della giornata di lavoro nei lager. Quindi nel giro di un'ora individualmente il gruppo di Alexandre e i suoi compagni riescono a uccidere 11-12 guardie, ma prima che possano dare il segnale d'allarme e organizzare la fuga collettiva, uno di questi corpi delle SS uccise viene scoperto e quindi le guardie danno immediatamente l'allarme. A quel punto non c'è un piano B pronto. Era previsto che partissero in fuga inizialmente coloro che avevano organizzato il piano, ma in quel momento giocano il tutto per tutto. Quindi tutti iniziano a scappare e forzano il cancello di recensione di Zobibor e lo abbattono. Quanti sono i prigionieri che sono presenti in quel momento? L'abbiamo detto solo quelli che vengono tenuti in vita per qualche giorno. Sono circa 600. Di quei 600 scappano tutti, cercano tutti di scappare tranne 130. 130 che decidono di non seguirli, che decidono di rimanere a Zobibor perché sono troppo malati, sfiniti per pensare di correre nei boschi o perché sperano di essere graziati dalle SS quando sarebbe arrivato il momento del regolamento dei conti. In realtà quei 130 saranno giustiziati tutti il giorno dopo. Di quelli che scappano la maggior parte viene uccisa immediatamente, non fa neanche in tempo uscire dal perimetro di Zobibor perché viene colpita dalle armi da fuoco delle guardie. Moltissimi altri invece cadono sul terreno minato che le SS avevano preparato attorno al campo di Zobibor perché poco tempo prima, cioè nell'agosto 1943, avevano saputo che a Treblinka, l'altro dei tre centri di sterminio, c'era stato un tentativo di rivolta. Allora per prevenire quello che avrebbe potuto succedere anche a Zobibor avevano di nascosto di notte minato tutto il campo. I prigionieri non lo sapevano, la resistenza interna non era corrente, quindi moltissimi perdono la vita saltando sulle mine. Altri 70 circa vengono riconsegnati dalla popolazione polacca che è fortemente antisemita e che collabora con i nazisti nella caccia agli ebrei, ma bisogna anche sapere che in Polonia vigeva la legge marziale, cioè per una persona che aiutava un ebreo tutta la sua famiglia veniva immediatamente fucilata. Quindi sui 450, 470 che circa scappano quanti ne rimangono vivi alla fine della guerra? Meno di 50, probabilmente 47 persone. Tra queste 47 persone c'erano dei ragazzini giovanissimi di 13, 14, 15 anni, c'è una coppia, un uomo e una che si innamorano nel campo e che poi si sposeranno e c'è il nostro Alexandre, il nostro Sasha. Sasha si unisce subito, prima della fine della guerra, a un gruppo di partigiani locali e continua a combattere contro la Germania nazista fino appunto al 1945, fino alla fine della guerra. Una volta rimpatriato, questo uomo che per quattro anni e mezzo ha combattuto contro la Germania nazista, combattuto per il suo paese, l'Unione Sovietica, viene guardato con estremo sospetto, destino che accomuna tutti i prigionieri di guerra sovietici che erano caduti nelle mani del nemico e in particolare quelli che erano stati imprigionati nei campi di concentramento. Cioè Stalin sospetta che queste persone che sono cadute in mano nemica non abbiano combattuto lealmente fino alla fine, non abbiano preferito morire per la madre patria russia e si siano come dire consegnati al nemico al quale forse hanno anche consegnato, trasmesso dei segreti militari importanti. Quindi invece di ricevere onori e gloria, Alexandre come molti altri viene tenuto in disparte, peraltro viene chiamato subito a testimoniare il processo di Nuremberg che si tiene subito tra il 45 e il 46, gli viene negato il diritto di appunto andare a testimoniare e subirà quello che tantissimi altri soldati russi hanno subito. Ovvero dopo poco tempo, precisamente nel 1948, dopo tre anni in cui comunque è stato tenuto al margine, è stato impedito di riavere una vita professionale piena, nel 48 viene deportato in un gulag, viene deportato in Siberia insieme a suo fratello, suo fratello morirà per le conseguenze di un diabete non curato. Alexandre, Sasha, resiste per altri cinque anni in questo terribile gulag fino al 1953 quando viene liberato e quando può tornare a Rostov nella sua città natale in Ucraina. Avrà comunque una vita molto difficile, una vita umile, lui che aveva studiato, che era una persona di cultura superiore, aveva tenuto sempre i margini. Questa storia di Sobibor e di Alexandre, questa storia di una rivolta, di una fuga incredibile, l'unica fuga collettiva riuscita in un centro di sterminio, una cosa veramente quasi inconcepibile. Questa storia sarebbe stata completamente sconosciuta se non ci fossero state le testimonianze dei sopravvissuti, ma soprattutto se non ci fossero stati quei film che alla fine degli anni Ottanta hanno iniziato a far conoscere questa storia. Il primo film intitolato Fuga da Sobibor è un film hollywoodiano per la televisione del 1987. Alexandre è ancora vivo perché morirà nel 1990, viene chiamato a Hollywood alla prima del film, ma ancora una volta gli viene negato, gli viene negata l'autorizzazione a uscire dal suo paese per raccontare la sua storia. E poi ci sarà il film di Claude Lanzmann nel 2001 che si intitola Sobibor, 14 ottobre 1943, ore 16, quindi esattamente il giorno dell'orario dell'inizio della rivolta. E infine, due anni fa, la produzione sovietica, la produzione scusata e russa, che si intitola sempre Fuga da Sobibor. Come mai di questa storia la Russia non ha mai voluto parlare? Per varie ragioni molto interessanti da discutere. La prima è che Sobibor era una storia prevalentemente ebraica. Alexandre era sì un tenente dell'Armata Rossa, ma era ebreo. Era finito in un centro di sterminio per ebrei e quella era la storia di una rivolta di ebrei. La Russia voleva invece una storia di liberazione che significasse la vittoria della gloriosa Armata Rossa su tutte le vittime, indistinte, quindi senza fare differenze tra brei e non ebrei, su tutte le vittime del nazifascismo. Quindi non si poteva raccontare una storia che fosse così tipicamente ebraica. Secondo motivo, mentre l'Armata Rossa nel luglio 1944 libera Maidanek, Maidanek che era stato centro di sterminio e campo di concentramento e trova un campo semi abbandonato, quindi di fatto non trova molto, trova però i resti delle vittime, quindi vestiti, scarpe eccetera, resti umani, trova abbondantemente i resti, le testimonianze visive a ciò che resta del crimine che è stato commesso e può quindi abbondantemente filmare, fotografare, produrre documenti visivi che serviranno a condannare la Germania nazista, quindi a trascinarla poi nei tribunali, ma soprattutto ad accreditarsi come vincitore, cioè vincitore sulla barbarie. Zobibor invece, come a Beuzek o a Treblinka, i nazisti quando smantellano questi campi e Zobibor viene chiuso il giorno successivo alla rivolta, quando vengono uccisi gli ultimi 130 sopravvissuti, tutti questi tre centri vengono non solo completamente distrutti, vengono smantellate le camere gas, vengono debolite tutte le costruzioni, le recensioni, eccetera, ma addirittura il terreno viene fatto rivoltare tre volte, tre volte la terra si ritorna, viene rivoltata affinché possa essere coltivata, possono essere piantati degli alberi, possa addirittura esserci messa una fattoria, una casa colonica con dei contadini che l'abitano, affinché si possa far finta che lì non sia mai successo niente e di fatto a Zobibor non rimane nulla da vedere, così come non rimane nulla da vedere a Beuzek o a Treblinka. Se non ci fosse stato Alexander con quello che ha fatto, se non ci fossero stati i testimoni che si sono battuti poi affinché la figura di Alexander venisse riconosciuta, di recente Putin ha voluto incontrare una sua nipote, ma siamo veramente a una distanza molto lontana da quei fatti. Se non ci fossero state le persone appunto a raccontare questa storia, noi non sapremo niente di questo episodio veramente straordinario che ci dimostra come la passività ebraica della Shoah è stato un mito e come tutti i miti vanno decostruiti e vanno approfonditi con la conoscenza storica.